Mi sento di dire che questo è un momento storico fondamentale, segna una svolta. Per la prima volta Roma ha un sindaco donna. In un momento nel quale le pari opportunità sono solo una chimera, questo cambiamento è fondamentale. Noi lo dobbiamo al Movimento 5 Stelle, a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, che hanno avuto la lungimiranza di portare avanti un progetto importante. E oggi siamo qui a testimoniarlo.